La prima cosa è che ci sono fatti Ah, fengo io qua Sì 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 Voi però fare uno sconze Come? Fanno uno sconze Ah, non, non, non Non è solo Non è solo Non lo scolto, non lo vado. E se vuoi la taglia, lo faccio. No, 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 vuoi stare. La stavo prendendo per me. Ma non lo vado a fare. Non lo vado a fare. Stavo male, ne ho dato pure io. E se ci metti bene i pannelli? Eeeh... Ma no, non è così, non lo prende. Sì, partiamo. non ci spiegate